Aerei cargo decollati dalla Giordania lanciano aiuti umanitari sui campi profughi improvvisati attorno alla città di Rafa. Era già successo ieri e nei giorni precedenti con farmaci e attrezzature mediche. È l'unico modo per far arrivare aiuti alla popolazione evitando i ritardi causati dai controlli e valichi di frontiera, ritardi ingiustificati e che dimostrano secondo le Nazioni Unite come Israele stia affamando deliberatamente i palestinesi commettendo quello che, secondo il diritto internazionale, è un crimine di guerra. L'ONU ha accusato inoltre le forze israeliane a Gaza di aver bloccato un convoglio dell'OMS che stava evacuando malati dall'ospedale Al-Amal di Khan Yunis, di aver arrestato due paramedici costringendo gli altri a spogliarsi per essere perquisiti e mentre l'esercito israeliano prosegue le operazioni nel nord e nel centro della striscia, sono sempre più caldi gli altri due fronti della guerra, quello nord con gli Hezbollah libanesi che hanno sparato decine di razzi contro i villaggi dell'Alta Galilea fortunatamente senza causare vittime e quello sud con i ribelli iemeniti uti che hanno danneggiato i cavi sottomarini che garantiscono le comunicazioni internet tra Europa e Asia. Nessuna novità arriva infine da Doha in Qatar dove si continua a trattare per una tregua. L'auspicio espresso dal presidente americano Biden per un accordo entro lunedì viene ritenuto prematuro sia da Israele che da Hamas. Sul tavolo in questo momento ci sarebbe una proposta avanzata dai palestinesi che chiedono una tregua di 40 giorni durante i quali Hamas libererebbe 40 ostaggi israeliani in cambio di 400 detenuti palestinesi. La buona notizia, dicono fonti vicine ai negoziatori, è che si sta trattando.